Le nostre Jello Drops Holiday riforniscono gli abitanti dell'acquario fino a 15 giorni senza problemi. Grazie alla loro particolare consistenza, le Jello Drops mantengono la loro forma e vengono sgranocchiate gradualmente dagli animali. Le Drops contengono sostanze nutritive essenziali, vitamine vitali, proteine di alta qualità, minerali e coloranti naturali. In questo modo gli abitanti dell'acquario si mantengono in forma e vitali. La semplice erogazione individuale consente un dosaggio preciso e la confezione sterile mantiene il cibo fresco a lungo. Jello Drops Holiday ha una durata di conservazione di 24 mesi senza refrigerazione. Grazie alla loro speciale formulazione impediscono quasi completamente il rilascio di nutrienti in eccesso nell'acqua, riducendo così il rischio di un eccessivo inquinamento dell'acqua e di una crescita indesiderata di alghe. L'accettazione delle gelatine alimentari è particolarmente elevata e pesci, gamberi e carpe le accettano molto bene. Le Jello Drops Holiday sono un'ottima opzione per le vacanze che durano fino a due settimane. Il mangime per pesci in vacanza a base di gelatine alimentari speciali è ideale per nutrire i pesci ornamentali tropicali durante le assenze più lunghe. Le Jello Drops Holiday sono le uniche drops che possono nutrire facilmente gli abitanti dell'acquario durante le vacanze. Poco prima di partire per le vacanze, aggiungere una drop per 5-10 pesci nella vasca dell'acquario per una vacanza di una o due settimane. Il dosaggio può essere effettuato direttamente nell'acquario o utilizzando il supporto opzionale Jello Drops Holder che viene fissato al vetro dell'acquario. I pesci possono servirsi del cibo per tutta la durata della vacanza.